Ancora un maxi blitz antidroga nella quartiere di Saione. Sotto la lente di ingrandimento delle forze dell'ordine arrestano i giardinetti di Campo di Marte e il Parco del Colle del Pionta. Si tratta della terza operazione portata a termine nell'arco di poco più di un mese. Motto della Polizia di Stato è esserci sempre. Credo che anche in queste forme la Polizia di Stato dimostra di voler mantenere un controllo del territorio. Impegnati gli uomini della Polizia di Stato e gli agenti della Polizia Municipale di Arezzo che hanno passato al setaccio gli angoli più caldi della città. In azione anche Irwin, cane antidroga dell'unità cinofila di Bologna. È stato proprio grazie al soffiuto infallibile che gli agenti hanno trovato diversi involucri di celofan contenenti cannabinoidi sotterrati nei giardinetti di Campo di Marte, scobata poi altra droga nascosta anche al Pionta. In tutto sono stati così sequestrati 250 grammi di stupefacenti, due invece le persone denunciate nel corso dei controlli. Al di là dei dati numerici che comunque sono importanti, l'aspetto più interessante è ridare alla collettività, restituire alla collettività territori che in parte sembravano persi. I uomini della Mobile e delle Volanti, infine nell'ambito della stessa operazione, hanno arrestato due persone, entrambe per spaccio. I poliziotti infatti, dopo aver documentato una compravendita di droga addirittura dal balcone, nel corso di una perquisizione domiciliare in un appartamento del centro cittadino, hanno trovato otto involucri di celofana contenenti eroina, celati alcuni nella guida scorrevole di un cassetto del comodino, mentre altri nascosti negli indumenti intimi, un bilancino di precisione ed altri strumenti per confezionare le dosi. Invito tutti coloro che con senso civico sentono il bisogno di rivivere, di tornare a vivere su questo territorio, di collaborare con le forze di polizia, di segnalare episodi di illegalità e di essere presenti anche loro, perché la sicurezza si fa insieme.